ciao a tutti bentornati world truth di jump versus come cazzo si chiama c'ho ragione questa volta facciamo una cosa un po' strana giochiamo con le parti tematico come nel video scorso in l'amore da una rosa su un piano e siamo che c'è un supporto di madara il tuo bis 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 e se non lo vediamo se salute si trasforma intanto no però è stato negativamente spaventato di cittadini se non mi chiede 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 beh che palle un bacino cittadini sono arrivato corto cittadini hai zon del cacchio hai visto cacchio diciamo che sasuke si dimostra forte come realtà io ho fatto qualche prova sono fatto da un altro non ho fatto molto da questo sono qua per vedere la ma senza giocatore non ho ancora visto giustice suppongo sia susano quel vestito che ha io so farlo tanto lo tengo ferro davanti a scello manca visto è il suo posto ah e io lo uso su zanosi vabbè se sta sta cazzo che sei più grande dello schermo ah e poi fa la freccia la freccia ci sta vediamo se qua con il tuo posto fatta la stessa tutta tene brucia due la seconda mossa non lo chiede si sta con una mossa cosa dopo è senza beh fa anche per chi dà e non ho combinato niente in questo partito ha un processo che viene atterrato su come dice c'è Suzuki poi vado a dire un altro che è contento ovviamente ma perché c'è prega mani di protagonismo un po no no si fa sentire io ho aiuto che padre non riesco a mandare sugli una mossa eh aizen che rompe la mince eh aizen sai che molesto è tu burro se è brutto azio buono ah è tu burro come aiuto dopo lo compriamo almeno sazuki picchia ah ma a casa ma Naruto è fortissimo ah ma Naruto è diventa così veloce ah fa il mangeki sharingan grande ma a casa si chiama il sharingan quello finale si quello super comunque hai visto Naruto quando si arrabbiato eh Naruto picchia ma anche se tu ti picchia ma picchia è un tondo credo è diventato velocissimo ah dai ah un bel team quello di Naruto che non fa punti però vabbè non fosse che c'è Naruto dentro perchè? mi piace Naruto come personaggio preferisco Goku guarda che sguardo brufone che c'è la Sasuke eh eh ho fatto tutto io ah ma fa culo diamo la... ah 30% di qualcosa si dai sarà non avere la vita sotto il 30% cioè sarà non morire non morire lo so eh team di Naruto contro team di One Piece chi avrà la meglio? noi perchè è ancora livello basso ovvio ce la possiamo fare questo ti fa vedere il counter è impossibile da fare il counter no secondo me è che cosa puoi fare con R1 cioè la difesa un tipo d'attacco l'altro tipo d'attacco no è quando ti attaccano se tu fai il quadrato fai counter mentre stai parando io lo mandi indietro ci sono difeso invece ho provato un po' ma ce l'hanno solo alcuni pg in un tutorial ah ok forse se ce l'hanno solo alcuni l'altro discorso è come l'attacco in corsa di Goku che secondo me è devastante ce la solo Goku ma che cazzo? mi hanno colpito da lì è cosa che sputa l'ala no no purtroppo Sasuke non diventa particolarmente favore di sukerate quindi si però io due non li riesco a me stai vedendo su un'unica anche a te che sto ammellando voi eh boh sai perché rompe il cazzo boh perché fia fisica ma mi ha fia fisica dallo giù chidori io non ho messo assolutamente un cazzo mi hanno colpito i due con il chidori quindi va bene il suo fuoco ha proprio il chidori ma si c'è roba poi c'ho un bagaglio della marina quindi sta ma quanto cazzo grande occupa troppo f... pazzi quel coso ma lui è giocabile non uso di Goku sì scaraventava ovunque che sembra quasi che non si aveva non so cosa hai capito non so di arrabbocante sì diciamo di spesa modalità che mi apro la pancia sono un figo adesso faccio frigo in chi? no eh fatemi fare figo anche ma anche di vero fattissimo sono fortissimo no devo farne due io stavolta scusa che se facciamo cosa non è un po' ah perchè le fai la nota fa la tela è la sfera comunque puoi farlo scusate 3 no veramente no vabbè scusate che sono tutte due vicini no no fai 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 è che troppo questa me ne spinta via però ma d'altro come sta? allora possiamo andare su bollo l'altro vivo e ti fermo vabbè già tornato romperchiazze però nooo chidori dovrei fare questo nooo mi carico con lui di fianco io un genio vabbè che cacchio buona eh chidori chidori dobbiamo cercare di ah sotto il 30% ciao peccato non l'abbiamo giocata male ma non so se era quella la condizione sicuramente 30% cosa può essere o il tempo o la vita però il tempo è per forza però ti ho detto iniziali dai secondi questo è il mio credo di ninja perchè hai preso dei punti diversi allora questo è come giochi non è come non hai pc che porti te l'ho detto che i simboli di master hunter il secondo sembrava la difesa ma quanti danni prendi mi ha preso una vagonata e mi ha preso pochi punti comunque mi ha fatto quello del 30% magari guardava il player 1 eh ah magari ho guardato il player 1 e te ci sei stato comunque con due condizioni c'è dato l'argento e c'è dato anche dei soldi che possiamo comprare due personaggi nuove addirittura e vai e noi ci vediamo infatti al prossimo video con i nuovi personaggi con i nuovi personaggi guarda c'è anche un livello 3 e un livello 2 dopo wow ciao alla prossima ciao